Ola a todos! Altro video! Yeah! Questo è un mini haul fatto dai cinciu più due cosettine che ho ordinato su Aliexpress che mi sono arrivate in meno di un mese e mezzo mi sono tanto tanto contenta inizio da queste due perché una delle due la desideravo da tantissimissimo tempo alla fine mi sono decisa e l'ho ordinata lo so che è una cazzata, lo so però sono la donna più felice del mondo cioè proprio... adesso lo vedrete e capirete perché vi dico una cazzatina però io sono stra stra contenta di averla finalmente e stiamo parlando di... Ta-da! Di lui! Di Stitch! Mi sono presa la cover! Sono felicissima perché io lo adoro io veramente ho un debole per lui mi piace da matti e sono tanto tanto contenta non ha le orecchiette blu ma è bellissimo lo stesso sono tanto contenta di averlo tra le mie cover benvenuto tesoro ti adoro è bellissimo, bellissimo, bellissimo e se non ricordo male è venuto 2,88 euro era ulteriormente scontato anche e sono felicissima mi piace da impazzire stupendo e l'altro acquistino che ho fatto su AliExpress è questa sorta di beauty blender che è venuta a 42 centesimi e si la userò naturalmente per il correttore però non escludo anche di fare qualche esperimento per il contouring che io so, si può sempre cimentare un pochettino e adesso vi faccio vedere gli acquistini dai cincio nei negozetti ho acquistato due di questi contenitori praticamente per le dita, l'immersione per la rimozione del semi permanente oppure per ammorbidire le unghie e le cuticole prima di una manicure oppure per la rimozione di smalti un po' difficoltosi quando hanno tanti glitter forti e ne ho presi due perché mi piaceva la combo dei colori lo so sto un po' in fissa con il fucsia e con il nero adesso cambierò colore quando mi faccio il refill perché è già due volte che ho utilizzato il nero però non ve la scambate ed è una nell'arte con questi due colori perché mi piace un casino guardate che meraviglia insieme strepitosi quindi prima o poi la farò bellissimi bellissimi, bellissimi e questi sono venuti 1,50 euro all'uno poi ho preso due buffer all'1 euro l'uno due agendine stupende mi sono innamorata di tutte e due allora una è questa con i guffetti, sì con sfondo nero e tutti i guffettoni tutti i guffettini colorati è uguale retro e fronte bellissima questo ha 2,02 euro e dentro è semplice ha le righe delle pagine bianche con le righe bellissima e l'altra è sempre guffettosa però su sfondo bianco e rosa troppo carina con i guffettini questa è venuta 2,55 e il retro è così con un guffettino bellissima anche questa mi piace tantissimo poi ho acquistato io ogni anno all'albero ho i decori in casa aggiungo qualche cosa e quest'anno ho trovato e sono stra felice questo per i vetri che si può riutilizzare tutti gli anni sono comodissimi e molto molto carini e decorativi col guffetto fantastico perché col guffetto non ce l'avevo e mi è venuto 1,05 euro guardate che carino adesso mi sa che ne prenderò anche un altro poi ne metto in ogni stanza bellissimo veramente stupendo poi sempre di guffettoso ho trovato le mollette natalizie e anche questo è 1,05 euro guardate che carine le mollette rosse con i guffettini che hanno il cappello di babbo natale bellissimi e poi anche lo so sono fulminata lo so questo da penne il guffetto bianco e rosso quindi super natalizie guardate che occhietti dolci che ha ha degli occhietti favolosi è bellissimo anche il campanellino anche questo è 1,05 euro guardate che bello bellissimo poi siccome avevamo in mente io e un'altra mia amica di fare qualche pensierino handmade abbiamo trovato dove li ho messo? eccoli perché li ho aperti li abbiamo divisi questi qua e sono dei bottoni carinissimi adesso vi mostro allora la confezione era ogni confezione con 6 bottoni ed è venuta mi pare sui 90 centesimi abbiamo preso questa con i fiocchi di neve questi decorini verdi poi questa con la scritta merry christmas e la corona guardate che carina e poi questa carinissima col pupazzo di neve troppo troppo carini mi piacciono tantissimo poi ne ho trovato da poco ero in giro ne ho trovato altre due con altre due fantasie è ad un euro però questa con la coccinella guardate che carina è bellissima guarda il foglio con la coccinella sopra con la coccinella è davvero fatta benissimo mi è piaciuta tantissimo e poi ho trovato anche questo con i fiorellini che è super colorato super allegro mi sono piaciuti moltissimo guardate che carini bellissimi sono di trovare tutto così faccio questi pensieri fatti da me perché a me piace molto se riesco a fare queste cosettine poi sempre per l'alberello ho preso queste queste stelline tutte dorate a 0,82 la confezione sono 5 stelline da appendere all'albero perché noi abbiamo l'albero oro rosso e poi qualcosa di bianco che si è aggiunta col tempo guardate che carina è questa troppo troppo carina e poi come pare di avervi fatto vedere tutto le ultime due cosettine che ho acquistato in previsione di fare qualche video che so per l'alloween prossimo cose così perché mi sono piaciute un sacco e per un euro l'una le ho acquistate sono questo paio di ciglia finte tutte nere che sembrano fibrose da quanto sono lucide e poi quest'altro paio di ciglia finta che sono nere e viola guardate che meraviglia sono bellissime e questo è appunto un euro l'una e ho finito di farvi vedere gli acquistini io lo so che sono cazzate lo so però io li chiamo acquisti del buon umore perché ogni tanto ci sta ti fanno proprio bene ogni tanto ci sta io dimmi amore cosa? lo so che sono cazzatine lo so però io li chiamo acquistini del buon umore e qualche volta ci sta ci sta di brutto proprio io spero di avervi tenuto un po' di compagnia che il video vi sia piaciuto fatemi sapere che ne pensate con un commentino e uno spoliciamento in su e fatemi sapere se voi avete già iniziato a comprare qualcosa di Natale quando iniziate come farete l'albero lo sapete che se vi lasciate un commento io sono sempre tanto tanto contenta iscrivetevi per non perdere i prossimi video se vi piaccio io vi mando tanti tanti baciottissimi e al prossimo ciao 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 ciao